Buonasera a tutti voi, bentrovati a questo speciale Televallo per l'occasione in trasferta. Ci troviamo a Trapani, ospiti dell'azienda sanitaria provinciale guidata dal direttore generale Fabrizio De Nicola. Siamo qui oggi per parlare di un argomento che nelle ultime settimane ha innescato un dibattito molto acceso nella città di Mazzara del Vallo. Parliamo ovviamente dell'ospedale Abelaiello. Il riferimento è in particolare alle reazioni che si sono registrate in città dopo le notizie riguardanti il nuovo piano sanitario regionale predisposto dall'assessore regionale per la salute Baldo Gucciardi. Un piano che ha previsto tra le altre cose in provincia di Trapani la classificazione come ospedale di primo livello di due nosocome, ovvero il Sant'Antonio Abate di Trapani e Erice e il Paolo Borsellino di Marsala. Per quanto riguarda invece Mazzara del Vallo, la classificazione verso la quale andrebbe il nosocomio mazzarese è quella di base. Un'otizia che hanno innescato, come dicevo poc'anzi, un dibattito acceso ha fatto innescare alcune preoccupazioni da parte soprattutto di alcune forze politiche. Altre forze politiche invece sono tra virgolette soddisfatte di quanto starebbe emergendo. Nel mezzo c'è anche un comitato, sosteniamo la Belaiello, che ha organizzato come saprete un corteo cittadino per il 31 gennaio. Si è parlato di tante cose. Abbiamo ascoltato in precedenti appuntamenti anche vari punti di vista sulla situazione. Abbiamo deciso oggi di venire a Trapani per capire ancora di più, per cercare di fare capire ancora di più a voi che ci seguite da casa qual è la situazione attuale e quale sarà soprattutto il futuro dell'ospedale a Belaiello. Non dimenticando ovviamente un'altra questione che è molto importante, ovvero finiti i lavori di ristrutturazione, aspettiamo. La città aspetta la riapertura del nosocomio, il ritorno dei reparti che erano attivi prima dell'intervento finanziato dall'Unione Europea. Insomma parleremo un po' di tutte queste cose con il dottor Fabrizio De Nicola. Buonasera dottore, intanto grazie dell'ospedalità. Sappiamo insomma dei numerosi impegni che lei ha quotidianamente. Buonasera a voi, grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Allora direi di prendere subito di petto la questione, è inutile fare giri di parole su quello che è accaduto. Lei sa meglio di me, tra l'altro in qualche occasione, in un paio di occasioni è intervenuto su questo dibattito con un comunicato stampa, anche congiunto con l'assessore Gucciardi per fare un po' di chiarezza. Il pandemonio, se così lo possiamo definire, è scoppiato nel momento in cui si è venuto a sapere che in questa bozza metodologica, ricordiamo che ancora un piano in itinere che deve passare ancora dalla Commissione all'Arsa, dal Ministero e così via, prevede per Mazzara la classificazione come ospedale di base. A molti è sembrato inopportuno, sempre a Mazzara, che la classificazione di primo livello invece sia andata a Marsala. Le chiedo subito, è una scelta obbligata, ci sono criteri oggettivi che hanno portato a tale differenziazione o si è trattata comunque alla fine pur sempre di una scelta politica? Allora, intanto vi ringrazio perché questo mi consente di fare l'ennesima operazione verità su Mazzara del Vallo, anche perché lei ha detto giustamente il termine pandemonio, lei ha buona memoria come me, io sono quasi qua da otto anni, pandemonio a Mazzara ne abbiamo assistiti parecchi e spesso sono stati assolutamente non dei pandemonio. Ricordo quello primo, quello di sette anni fa, in cui si mise in dubbio addirittura l'esistenza di questo ospedale. Scoppiò un pandemonio perché l'ospedale non per scelta politica, ma per scelta assessorale era stato chiuso, era stato chiuso perché c'erano problemi seri di stabilità e di sicurezza che voi ricordate che determinano poi non un pandemonio ma addirittura invece quello che poi è stato, e ne parleremo nel corso della trasmissione, un'eccellente dimostrazione di buona amministrazione, cioè la creazione di un finanziamento utilizzato e la realizzazione di un ospedale che apriremo. Quest'altro pandemonio, degli altri poi sicuramente avevamo modo di riapprofondirlo, non è un pandemonio. Intanto mi consentirà di dire, perché questo deve essere chiaro ai cittadini mazzaresi, come quelli della provincia di Trapani, che la scelta e la classificazione degli ospedali è già qualcosa che mi lascia perplesso, perché classificazione degli ospedali non c'era mai stata in Sicilia. E' questa classificazione che viene definita come penalizzante o vincente qualcosa che in ogni caso, e questo ci tengo a dirlo, non è una risposta e non ne attiene alla competenza di un'azienda sanitaria. Non fa certamente, ed è una proposta in itinere che il governo regionale dell'assessore ha con interroguzioni continue facendo con il Ministero della Salute, proprio perché il Paese Italia, non soltanto la regione siciliana, ha bisogno di una rivisitazione delle strutture ospedaliere e non per un problema, voglio chiederlo ai cittadini per l'ennesima volta, non è un problema di risorse economiche, non c'entra nulla, non è un Paese, l'importanza di questo Paese che ne fa uno forse tra i primi tre per offerta sanitaria, sta a dimostrare come, peraltro lo fa, con risorse economiche che il Paese Italia ha minori rispetto a quelli dell'Unione Europea, noi spendiamo meno in termini assoluti, in termini percentuali di PIL rispetto a quelli che spendono gli altri Paesi per la sanità, è un problema di sicurezza e di garanzia dei cittadini e di chi ha necessità dell'offerta sanitaria, perché si basa essenzialmente su due nuovi concetti che sono quello della tempo dipendenza e dell'emergenza urgenza, che ha un concetto molto chiaro, tramontata il periodo, perché se qualcuno ancora pensa a questo è veramente fuori tempo massimo, dell'ospedale sotto casa che consenta a tutti di avere tutto e tutti, questo è assolutamente superato perché non si può consentire nessun Paese, figuriamoci l'Italia, anche perché non garantirebbe la sicurezza, e tutto sta nel garantire, non soltanto che sono ovviamente l'assistenza ordinaria, che diremo come viene garantita in tutte le città e soprattutto in Mazzara, ma quelle che sono alcune cose che vanno garantite necessariamente con quello che deve essere un intervento di tempo dipendenza, cioè urgente, faccio un esempio per i cittadini, questi sono fondamentalmente due tipi di patologie, le più devastanti e le più urgenti, che sono i problemi cardiologici, cioè l'infarto e l'ictus. Ipotizzare che qualunque città abbia la possibilità di avere un'emodinamica piuttosto che una stroke unit è ovviamente una follia. La gente deve quindi comprendere come quello che era nel passato era sbagliato, cioè come molte vite umane abbiamo perso perché si portava il cittadino, a Firenze dice, nell'aputia della guardia medica o nell'ospedale di base o nell'ospedale del piccolo centro, dove quel tipo di patologia non poteva essere certamente curato. E la perdita di tempo di un sistema che non funzionava, che poi doveva spostare dove portare il paziente, nell'ospedale più vicino, che magari non ha attrezzato, ore che determinavano spesso non soltanto l'evento morte, ma certe volte l'evento anche grave non mortale, che era perché quando interviene ovviamente con fonti di un infarto o di una stroke unit nell'ora, nell'ora e mezza, nell'ora necessaria affinché la mattina sicura, questo è inevitabilmente devastante per il cittadino. Allora viene ricreato un sistema nel cui hub di secondo livello ne avremo soltanto pochissimi in Sicilia, perché è chiaro che quel soggetto, ma neanche a Trapani, verrà probabilmente portato, o meglio verrà portato a Trapani, nel caso in cui l'amodina non lo consente, ma per altri tipi di patologie andrà nell'abbri di secondo livello. Parliamo dei cittadini occidentali, tutt'altro discorso farei se fosse a Siracusa, a Ragusa o a Messina, che sarà il Policlinico o sarà Villa Sofia Cervello di Palermo. Ecco, in questa idea, ovviamente si inseriscono altri fattori che la gente non sa e che devono essere informati, e cioè la strutturazione di un eccellente impianto del 118, che oggi stiamo, non l'azienda di Trapani, ovviamente a livello di regione sanità e di sanità siciliana, stiamo implementando e migliorando affinché venga garantito con immediatezza, e i casi di presunta masalità di questi sono stati per noi preziosi, per comprendere dove va immediatamente portato il paziente, perché è chiaro che se un paziente può essere assistito e tutelato nella propria città per una patologia che ovviamente guarda andare in quella città, ma per patologie importanti ci sarà necessario quel trasferimento di 30 minuti o di mezz'ora o di un'ora perché lì va curato, va guarito il paziente. Ecco perché non entro e chiudo nella polemica strumentale di cos'è primo livello e cos'è secondo livello, in ogni caso perché è una scelta strategica che compete alla governance regionale e al ministero, non certamente a questa azienda, ma che lo posso non condivide sui due elementi di base che sono proprio il concetto di urgenza, emergenza e di tempo di dipendenza. Una delle questioni che è stata sollevata in queste settimane è il fatto, al di là dell'avvicinanza tra gli ospedali di Marsala e Trapani, c'è poca distanza, sul fatto che secondo il decreto ministeriale 70, il famigerato famoso decreto ministeriale 70, un ospedale di base avrà o potrebbe avere soltanto quattro reparti. Chiariamo anche questo aspetto a chi ci ascolta da casa. Sì, vorrei usare un termine forte, una sciocchezza, perché bisogna essere chiari e studiare. L'ospedale di base è così definito e molti non lo erano in Sicilia, quando ha almeno quattro elementi, senza i quali non è un ospedale di base sono la medicina, la chirurgia, un pronto soccorso funzionante e un'ortopedia funzionante. Questi sono gli elementi che fanno dei fine in quell'elemento, almeno l'ospedale di base. Ma quando abbiamo più volte anche citato e determinato quali ha tante altre discipline, e avrà Mazzara, o avrà Castelvetrano, o avrà Alcamo, è a dimostrare che quelli senza i quali l'ospedale non può essere definito di base. Ma a Mazzara ne avremo ben altri, abbiamo comunicato, e non ci torneremo, perché sapete che avremo l'oncologia, tutte le altre discipline che saranno presenti all'ospedale di Mazzara, che le faranno un ospedale molto più importante di quello che era e che è stato. Ma questo vale per l'intera rete ospedaliera, dove poi esistono ospedali di comunità, che sono un'altra cosa ancora, dove non c'è neanche il pronto soccorso, e che vanno definizioni e destinazioni diverse. Ma quando si ipotizza che l'ospedale è semplice, un pronto soccorso sono nomai? Ma non è vero, perché definire ospedale di base significa garantire al cittadino quei quattro elementi fondamentali, cioè ovviamente che un pronto soccorso abbia una medicina, una chirurgia, una sala operatoria dove si possa intervenire per quel tipo di patologie specifiche, perché non ha bisogno, mi ripeto e ripeto, dell'abbio di primo livello e dell'abbio di secondo livello. Ma queste saranno implementate da tutte le altre discipline che esistevano, per chiarezza dei cittadini, e verranno riportate a Mazzara dagli ospedali vicinori di Marsala e di Castelvetrano, con, lo ripetiamo, le risorse umane e professionali che avevano, che avevamo spostato ai tempi della chiusura momentanea a Marsala e a Castelvetrano, implementate da altre risorse, da altre attrezzature, delle migliori attrezzature, dei migliori impianti, perché ovviamente nel frattempo avremo provveduto ad acquistare, e stiamo venendo ad acquistare, quelle che sono le migliori attrezzature per un ospedale che sarà un ferro all'occhiello di questa provincia e forse dell'intera regione siciliana. Sulle professionalità ci torneremo tra qualche istante, che avrei una domanda da porle. Sempre a proposito di questa classificazione ospedale di base, ospedale di primo livello, uno dei timori che viene messo in risalto nella città da alcune forze politiche, dal comitato cittadino, è che l'ospedale di Mazzara, essendo classificato, se verrà confermato così ovviamente alla fine del percorso burocratico, ciò non garantirà questi reparti che torneranno da un'eventuale scura e ministeriale che potrebbe farli chiudere in poche parole, è come se questi reparti venissero considerati precari, cioè da un giorno all'altro potrebbero essere chiusi. È così o no? Non è vero, è assolutamente falso. Ci metto la faccia e la responsabilità. La classificazione che si fa non c'entra nulla con quello che l'assessorato ha ritenuto di dover inserire nelle discipline che stanno presenti a Mazzara. Il Ministero, nella votazione che farà, non dovrei rispondere a questo, ma lo posso fare, non starà determinando quelle che sono le scelte di quello che già c'era a Mazzara. Quindi voglio dire che non c'è nessuna precarietà di strutture e discipline. Quello che io ho annunciato, negli scorsi comunitari di stampa e nelle scorse interviste, che ritornerà da Mazzara e da Castelvetrano, è assolutamente quello che c'era e quello che abbiamo implementato. Anche, devo dire una cosa che non si vuole ricordare, nella dotazione organica che ho previsto la nuova, che ovviamente sarà approvata e sarà in atto nel momento in cui avremo l'approvazione del Ministero con tutta la procedura che conoscete di passaggio dalla Commissione Sanità, dalla Giunta di Governo e infine dal bollo finale da parte del Ministero, è chiaro che avremo, vado a memoria, circa il 40% di risorse in più di medici, di infermieri, di ausiliari, non soltanto per le discipline in più che abbiamo previsto, ma anche per compensare, e questo prevengono una sua sicura domanda, quelle che sono le carenze strutturali e personali che oggi esistono in tutta la Sicilia e in tutta Italia, mi consentirei di dire perché non fosse altro che le assunzioni nel pubblico sanitario sono chiuse, sono bloccate da almeno dieci anni e che non vedo l'ora che questo si possa essere di paese, anche soltanto per sgradarmi la responsabilità che sapete, che mi sono sempre assunto dai contratti a tempo determinato con i quali ho dovuto coprire i voti normativi del contratti a tempo indeterminato, ma con i quali ho continuato a garantire l'assistenza sanitaria nella provincia di Trapani, compresa quella di Mazzara, nel modo che certamente sappiamo. Dunque, ospedale di Mazzara, abbiamo detto, torneranno tutti i reparti, non saranno precari, sarà comunque al di là della struttura un grande ospedale che merita una città di quasi 60.000 abitanti, dove c'è una forte componente di abitanti provenienti da altri paesi, in particolare dall'Africa settentrionale. E questo è uno degli aspetti più importanti, credo, anche da sottolineare per far capire da casa a cosa va incontro l'ospedale a Beretta. Molti cittadini hanno visto, credo anche come rappresentanti, che la televisione sono già entrate. Ho aperto già le televisioni due mesi fa, è venuto, vi ricorderete, il sottosegretario Lotti, ma soprattutto è venuto, lo dico ai cittadini con orgoglio, ai cittadini mazzaresi, è venuto ad oltre la Commissione europea, perché sono venuti funzionari europei, non italiani, italiani, quelli difficili, quelli che ritengono che l'Italia non sia in condizione di spendere bene. Noi siamo stati una dimostrazione, e ci è stato riconosciuto, virtuosa, perché abbiamo speso i 32 milioni di euro fino all'ultima lira, li abbiamo spesi nei tempi, li abbiamo spesi correttamente, ci è stato certificato, e l'ospedale che qualcuno dei mazzaresi già conosce, che conoscerete a breve, è un bellissimo ospedale, con le strutture più moderne, con strutture di sicurezza, perché da questo si partì per la chiusura, troviamo un ospedale totalmente insicuro, e purtroppo i fenomeni recenti dei terremoti e dei rischi che i cittadini e i pazienti devono sapere che sono stati corsi e si corrono in Italia, in un paese che purtroppo ha questo tipo di rischio, è un rischio che Malzano avrà, perché un ospedale è stato organizzato con i migliori sistemi antisistemici. Quindi è un bellissimo ospedale, realizzato anche con, e questa è una cosa che mi dà orgoglio, anche con, devo ringraziare questo la ditta, con maestranze mazzaresi, un ospedale dove hanno lavorato in certi mesi dell'anno anche 150-160 persone, maestranze mazzaresi, poteva non essere, la ditta poteva ricorrere ad altre, invece abbiamo dato lavoro a questi dati e hanno organizzato una cosa che sarà un orgoglio per sempre per questa città, e nessuno deve avere dubbi di quello che sarà fatto in questi anni, quello che sarà fatto, perché l'abbiamo organizzato per riempirlo. Beh, da di recente, anticipo un'altra domanda e poi ci torniamo, c'è stata anche la polemica che non riapresse il punto nascito. Lì stavo arrivando, sarebbe stata la prossima domanda, gliela faccio così, tagliamo la testa al toro. Ricordiamo cosa è accaduto intanto qualche anno addietro, la chiusura, poi la sospensione, è la questione che è stata rimandata a oggi, se vogliamo. Questo punto nascita innanzitutto riaprirà e se riaprirà sarà in una fase sperimentale, sarà una riapertura definitiva? Anche da questo punto di vista le chiedo di fare qualche chiarimento. La faccio le ho ribattute e domande ai cittadini mazzaresi. Ma secondo voi, intanto ricordo la verità, il punto nascita venne chiuso insieme all'ospedale, momentaneamente con decreto dell'ex assessore sospeso, proprio perché si chiudeva e non poteva essere fatto altrimenti. Ricordo anche le critiche più avute addosso sia a De Nicola che all'allora assessore russo per questa chiusura. Qua c'entrava poco, voglio soltanto ricordare, perché forse ancora i cittadini tra paesi non lo ricordano, che l'ospedale di Mazzara andava chiuso per disposizione dell'ora vigile del fuoco. Noi non solo non l'abbiamo chiuso, perché siamo riusciti ad avere un finanziamento attraverso l'ora all'ex assessore e riuscimmo, ripeto, a spendere interamente. Ma era chiaro che nel frattempo, proprio per i tempi di rapidità in cui doveva essere realizzato due anni e mezzo per non perdere il finanziamento e l'abbiamo fatto, non poteva essere, come in altri casi fu fatto, ma ci vogliono vent'anni in Italia, chiuso a spicci, che boccone, si dice sempre a Firenze, o a pezzettini perché necessità per problemi di urgenza, chiudelo completamente. Quindi non solo abbiamo fatto un'area di emergenza che bene o male ha garantito quel minimo di assistenza, ma abbiamo spostato e non poteva essere fatto altrimenti anche il punto nascita. Ma come si ipotizza un punto nascita quando noi abbiamo fatto, nell'atto aziendale che ho fatto l'anno scorso, ho previsto il punto nascita e mi è stato approvato dal decreto assessoriale della giunta regionale. Ho realizzato due piani che avete visto e sono i piani più belli, con i disegni fatti dai bambini nelle scuole, con i concorsi fatti, con la sala operatora dedicata. Ho spesso centinaia di miliardi di euro con un decreto approvato alla giunta per non aprirlo. E' veramente quando si deve fare una strumentalizzazione inutile. Noi l'abbiamo previsto nella dotazione organica, l'abbiamo previsto nell'atto aziendale, l'abbiamo realizzato, abbiamo provveduto tra gli acquisti a prevedere gli acquisti relativi relativi a farlo e poi non lo apriamo. Dove si vuole vedere qualcosa che non funziona si può dire quello che si vuole. Io cercherò di non rispondere più alle strumentalizzazioni. Io ho fatto l'intervista per carezza nei confronti dei cittadini mazzaresi, che d'altorni basta che guardano i fatti. L'ospedale è lì, passando la prima cosa che si è fatto e qualcuno diceva che non sarebbe mai aperto. L'ospedale è lì, l'abbiamo fatto vedere, lo apriamo perché dopo i collaudi lo apriamo. Sarà giusto che parli di fatti. Quindi tutte le strumentalizzazioni le polemiche avranno il loro risultato e la loro soddisfazione alla fine dei fatti. Noi parliamo con i fatti. Mi sembra di capire che il tempo darà le risposte su tutto. Altra questione, la questione radioterapia. Anche lì ci sono stati mesi di polemiche, anzi anni di polemiche, se ricordiamo all'inizio quando la radioterapia era stata prevista a Mazzara e non a Trapani, allora la sollevazione a Trapani. Poi recentemente è tornata di moda perché a Trapani si è data complessa, a Mazzara semplice, adesso è dipartimentale. Insomma, da questo punto di vista qual è la situazione attuale per quanto riguarda la provincia di Trapani e poi soprattutto in che modo sta procedendo l'ITER per arrivare all'attivazione di questo macchinario che è davvero atteso da tanti. Allora, anche la chiarezza, abbiamo assistito a una manifestazione a Trapani perché fu aperta a Mazzara, ritenendo che Mazzara non fosse adeguata. Ora ne abbiamo due, dovremmo essere soddisfatti, ma c'è un motivo di insoddisfazione per quanto riguarda la struttura complessa semplice. La verità è che avremo due radioterapie, la prima certamente come di Mazzara, perché lo voglio dire ai cittadini, è pronta. Abbiamo le attrezzature, sono state collaudate e le abbiamo già pronte. E dico ai cittadini tra paesi che nella riapertura dell'ospedale i collaudi finiscono nel mese di marzo e aprile. La prima cosa che apriremo al pubblico, oltre ovviamente al pronto soccorso, è quello che sono le attività vicine dell'area di emergenza che erano spostate, è proprio la radioterapia, per la quale, dico ai cittadini tra paesi, attrezzeremo anche per l'intervento, lo ringrazio, dell'assessore Gucciardi che su questo ci ha dato davvero una mano. Stiamo stipulando, proprio accanto, completiamo presto queste riunioni una convenzione tra le migliori strutture che ci sono in Sicilia, che è Villa Santa Teresa, qui una convenzione pubblico-pubblico, sapete che è un'azienda confiscata alla mafia che verrà, e con quelle espertise noi riusciremo a aprire immediatamente una struttura che sarà tra le migliori nel meridione. E questo non nel 2017, ma parleranno i fatti. I cittadini lo vedranno e potremo avere modo di dimostrare che le cose che dicevamo non sono proclami, ma sono fatti. Dunque, anche per la radioterapia, queste le ultime novità che arrivano direttamente dalla voce del dottor De Nicola. Dicevo, a inizio trasmissione questo dibattito sulla classificazione del primo livello ospedale di base, sta un po' distraendo da quella che è la priorità, l'ha accennato anche lei più volte, sulla riapertura dell'ospedale. A metà ottobre c'è stata la fine dei lavori, da lì sono partiti i fatidici, tra virgolette circa sei mesi per ottenere la riapertura. Tra l'altro noi nel nostro telegiornale teniamo il conto, abbiamo un countdown, siamo a circa, se non ricordo male, tra 108 e 109 giorni già passati da metà ottobre. Da questo punto di vista, non dico ovviamente una data certa perché credo che sia difficile, ma orientativamente quando questo ospedale con il pronto soccorso e la radioterapia sarà nuovamente operativo? Devo dire che la ringrazio perché lei è veramente preciso e su questo io mi attengo. Io feci un impegno, ma lo prevede la norma, non io, che prevedeva la riapertura dell'ospedale a sei mesi dopo la consegna e così sarà. Allora l'ottobre, quindi sei mesi passavano ad aprire, perché la legge prevede sei mesi? Perché i tempi relativi ai vari collaudi che vengono fatti, collaudi tecnici e amministrativi, non sto qua a elencarvi quali sono, anche tutti non li conosco nemmeno io, compreso ovviamente quello della radioterapia che è già avvenuto, hanno un periodo che per norma deve essere di circa sei mesi. Quindi quando io dico, quando ho sempre detto che da ottobre decorremo e avete fatto bene a mettere il contatore dei giorni... L'abbiamo messo sin da quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione. È una sfida che accetto. Ho già vinto quella di non perdere un euro di finanziamento europeo. Sfida che in Italia hanno vinto pochissime persone. Lo dico con un grande orgoglio, perché è stata scelta di sacrifici e anche di rischi e di responsabilità. Faccio riferimento ai famosi ricorsi che venivano presentati per 11 ricorsi che ho avuto e che abbiamo vinto, ma per i quali io non ho aspettato l'esito del giudizio. Lo voglio dire, cittadina, perché non è un atto scontato. Io sono andato avanti con i lavori e rischiando, perché se i giudizi fossero stati a me contrari, perché avessero determinato che aveva ragione la ditta che ricorreva, io non solo avrei perso il ricorso con le responsabilità personale da non poco conto, ma avremmo perso il finanziamento. Che avremmo perso in ogni caso se avessi aspettato il giudizio. Quindi noi siamo andati avanti confinati sul fatto che certamente i nostri atti amministrativi non corretti. Questo per dirvi che le sfide le abbiamo già vinte. Questa del finanziamento, dell'utilizzo di tutta la somma e non perdere un euro è una sfida vinta. E sarà una sfida vinta quello di dire che entro sei mesi, ovviamente i tempi saranno, quindi tra fine, non ho la data precisa, probabilmente l'avrò nei prossimi giorni, fine marzo o prima di aprile. E dico subito ai cittadini che sarà ovviamente una logica di questa azienda, così come fu caratterizzata allora, vi ricordate, l'abbiamo fatto insieme questo programma, non lo ricordo l'intervista, e cioè la chiusura a pezzi, la riapertura a pezzi, perché è chiaro che io inizierò certamente da un pronto soccorso e da quello che è in area di emergenza, i servizi, i laboratori di analisi, la radiologia e quello, per poi immediatamente, ripeto, la radioterapia e poi anche per dare meno fastidio e meno difficoltà ai pazienti e anche agli operatori, ci mancherebbe ai nostri operatori sanitari a tutto tondo, parlo dei medici, degli ausiliari, degli infermieri e degli osso, uno spostamento ovviamente a tempi determinati dei reparti dagli ospedali vicini di Marsala e di Castelletra. Lo chiesi all'assessore Gucciardi a ottobre, quando venne consegnato l'ospedale in occasione della conferenza, quando finirono i lavori, lo chiedo anche a lei, la riapertura dell'ospedale Belagiello e l'assunzione delle nuove professionalità, in che modo e se in modo legato all'approvazione di questo piano sanitario? Nel senso, la riapertura dell'ospedale non è legata all'approvazione del piano, mentre le assunzioni sì. Giustissimo. La riapertura va per i fatti suoi, quindi i reparti che noi avevamo, non c'entra niente con l'approvazione, perché l'approvazione ovviamente attiene a una logica ovviamente anche relativa all'incremento di posti letto che Trapani per fortuna ha avuto, la provincia di Trapani, e le assunzioni di determinati a tempo indeterminato, perché veda, come lei sa, il Ministero ha determinato, ma non soltanto a confronto della regione siciliana, lo fece in conferenza Stato-Regioni, in confronto di altre regioni, alcune sono più indietro di noi, molte sono più indietro di noi, solo alcune sono più avanti di noi, di legare tutto il processo assunzionale a tempo indeterminato, finalmente ovviamente all'approvazione di questo nuovo sistema, l'ho detto all'inizio, di quelli due presupposti che ho determinato la classificazione della rete, che sono la tempo dipendenza e la rete dell'urgenza emergenza. Su questo certamente sarà determinante l'approvazione, il visto finale, come lo chiamo io, da parte del Ministero per poter poi procedere ovviamente alle assunzioni e quindi alle implementazioni anche delle attività, anche nuove, che è lo che la redoterapia, in tutto questo sarà agevolata dal processo convenzionale che sto facendo, perché non determinerà ovviamente l'assunzione di nuove risorse, una cosa che provocherebbe una perdita di tempo. Anche per questo siamo andati nella direzione della Convenzione. Poco fa parlava dei tempi record nella realizzazione di questa struttura, nella ristrutturazione dell'ospedale Abeaiello. Proprio da notizie di stampa, da un'operazione condotta dalle forze dell'ordine, si è preso anche di un tentativo di infiltrazione mafiosa in questi lavori, ovviamente che essendo multimilionari hanno un po' attirato l'attenzione di certi ambienti. Anche da questo punto di vista, insomma, ne siete usciti. Ne siamo usciti bene. Io devo in questo ringraziare davvero le forze di polizia, tutte, la procura e la prefettura. Noi realizzammo un protocollo di intesa, un protocollo di legalità, che in realtà la nuova trappa esiste anche per altri appalti. Ma quello fu particolarmente importante perché ci permise di mettere insieme le conoscenze, di capire quali erano le ditte black list, le white list, quelle che sono e ci ha consentito, certe volte in un territorio, quello siciliano, parlo generamente abbastanza complicato, di andare avanti. E io credo che di questo il metodo sia dato esclusivamente a chi c'è stato accanto, alla prefettura e forza dell'ordine, che hanno garantito, hanno tutelato, hanno controllato e hanno verificato e per fortuna le cose sono riuscite anche per il merito loro. E di quel protocollo che oggi credo che sia un esempio veramente virtuoso di come si possa la pubblica amministrazione a tutti i livelli, quella che deve controllare, quella che deve operare, riuscire anche in settori particolarmente interessati anche alla criminalità. Prima di avviarci verso la conclusione, ovviamente approfitto della sua ospitalità per fare una breve sintesi di quello che invece è la situazione in generale, in tutta la provincia di Trapani, della questione sanitaria anche in virtù di questo piano sanitario che va verso l'approvazione. Cosa ci sarà in provincia di Trapani, quale sarà l'offerta per gli utenti trapanesi e ovviamente non solo trapanesi? Diciamo che l'assistenza sanitaria garantita nel disegno che abbiamo visto, cioè i due elea di primo livello, gli ospedali di base, è un'assistenza sanitaria, e lo voglio dire ai cittadini trapanesi, che è cittadini mazzalesi a tutti i cittadini della provincia, visto che giustamente lei ha allargato l'orizzonte. È un'offerta sanitaria completamente diversa dal passato. Vedete, l'offerta sanitaria fino a dieci anni fa è un'offerta ospedalicentrica, cioè si basava, si credeva che la forza di una provincia, di un paese dipendesse tutto dal tipo di ospedale, non è più così. Non vorrei tagliare i cittadini, ma l'innalzamento dell'età media ha cambiato anche molto il tipo di malattie, le famose malattie croniche che oggi sono molto più importanti e molto più diffuse, molte delle quali non ha bisogno più di un ricovero ospedaliero, cioè non nella fase acuta, ma nella fase non acuta hanno bisogno di una presa in carico del paziente che può avvenire, che deve avvenire in un territorio forte, in un'assistenza territoriale, che può arrivare in alcune malattie, parlo ad amenzasenire, parlo del Parkinson, parlo di alcuni casi di patologie, a casa, con un'assistenza domiciliare. Ecco, avere investito questa azienda milioni di euro in quello che è l'assistenza diversa da quella ospedaliera, ma non perché è meno costosa, perché è più adeguata rispetto a quella, più corretta e più efficiente, fa sì che questa azienda può oggi dire di avere un'offerta sanitaria, anche rispetto alle altre province siciliane, ci viene attestato, che è più completa, che va dall'ospedale al territorio, assistenza domiciliare e altre cose faremo, perché noi martedì mattina inauguriamo il primo SPOC di un'assistenza ai neurolesi, che oggi faceva soltanto l'Istituto di Eccellenza di Messina. La provincia di Trapa e diciamo a Salemi, quindi vicinissima a Mazzara, sarà la prima città in Sicilia che aprirà un centro dove noi assisteremo i neurolesi, cioè patologie molto complesse dei soggetti che hanno avuto incidenti, che hanno oggi patologie lunghissime, che anziché trasportare questo regolamento di etica e di miglioramento della provincia rispetto anche a Palermo, rispetto anche a altre province, che anziché spostare cittadini che devono andare a 300 chilometri per stare accanto ai propri figli e ai propri cari, che purtroppo sono in condizioni davvero difficili, vengono assistiti nella provincia di Trapani. Questa è un'eccellenza che dimostra come la sanità trapanese in questo tempo è migliorata perché ha migliorato la qualificazione dell'offerta sanitaria, che non è più e non deve essere più soltanto ospedaliera, ma deve essere completa nel modo che ho detto. Era doveroso fare anche questo passaggio più in generale sulla sanità in provincia di Trapani. Dottor De Nicola, noi ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento televisivo, sperando di aver fatto ulteriore chiarezza con i cittadini che ci seguono da casa. Lei sa che giorno 31 gennaio, martedì prossimo, a Mazzera ci sarà un corteo cittadino promosso da un comitato che si chiama Sosteniamo l'ospedale a Belaiello. Saprà le motivazioni che hanno spinto questo comitato a promuovere questa iniziativa. Lì c'è la telecamera, lì ci sono i cittadini di Mazzera che la stanno seguendo, le posso assicurare che sarà seguitissima questa trasmissione. Cosa si sente di dire loro anche in vista di questo corteo? Io ho massimo rispetto di tutte le opinioni e di tutte le posizioni. Non avete mai visto entrare in strumentalizzazione strana quella della difesa dei fatti. Ci sono cittadini mazzarei sempre limitato e nei consigli comunali in cui sono venuto, lo ricorderete mettendoci la faccia, anche così come mai, lunghi 4-5 ore e negli intervisti e nei miei interventi in ogni casa a Mazzara e nei vostri confronti a dirvi che parlano i fatti. L'ospedale è lì, l'ospedale sta riaprendo, l'ospedale sta riaprendo con le cose che ho detto. Io non è una polemica, non ricordo comitati o cortei quando Mazzara perse, 15 anni fa, 12 anni fa, non ricordo, il finanziamento che vedeva un ospedale e che ha visto rischiare di perdere per sempre quei soldi per Mazzara. Credo di poter rivendicare il fatto che adesso l'ospedale è lì, l'abbiamo organizzato e non risale a scelte politico-istituzionali di 20 anni fa, che non sono state per la verità neanche mie, sono un esecutore, soltanto un direttore generale, non sono certamente un politico, ne ho belleità di prendermi meriti che non sono miei. Ma i miei mi riprendo e sono quelli di avere dimostrato nei fatti che l'ospedale lì, verrà completato nei tempi detti e quindi posso dire, pur nel rispetto dei movimenti, di qualunque posizione, che credo che si vada valutati nei fatti concreti. E su questo credo di poter dire che ho la faccia e la testa di poter dire valutatemi. Anche in questo caso, direttore, il tempo darà le risposte. Ovviamente saremo qui anche nei mesi successivi per verificare che tutto quello che è stato detto su quello che ci sarà all'interno dell'ospedale. Insomma, saremo qui. Il tempo darà tutte le risposte in un senso o nell'altro. Non so se lei vuole aggiungere qualcos'altro. Siamo arrivati al termine di questa trasmissione. La ringraziamo ancora per l'ospedalità e per la disponibilità, visti i suoi tanti impegni. Noi ovviamente continueremo questo viaggio nei meandri della sanità provinciale e mazzarese per capirne ancora di più e soprattutto per farvi capire di più voi a casa. Grazie come sempre per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di Telavallo.